Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con un robot meraviglioso, Mazinga Z, edizione Ascette, altezza del solo robot 75 centimetri, altezza massima del centro di cerche fotoniche 90 centimetri. Bellissimo. Andiamo subito, scusatemi, a dare un'occhiata a quello che abbiamo trovato in questo numero, il 10. Per quanto invece riguarda l'interno del fascicolo lo faccio scorrere velocemente perché se qualcuno di voi avesse piacere di dare lettura potrà andare a vedere il video unboxing. Se avete anche piacere di iscrivervi al canale, Michele non potrà che ringraziarvi. Date anche un'occhiata alla playlist, attivate la campanella così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Se poi qualcuno avesse anche piacere di farsi montare il modello da Michele mi contatti privatamente, grazie. Questo è quello che troviamo nel fascicolo numero 11. Ecco qui. Andiamo a prendere quello che abbiamo trovato. Abbiamo la copertura degli occhi in pressofusione. Qui andremo a collocare questa mascherina che abbiamo trovato nelle uscite precedenti, che è meno traslucida di quella che abbiamo montato invece se vorremmo usare i led. Abbiamo le colonne di supporto lunghe in acciaio. Queste, a differenza di quelle che abbiamo montato in precedenza, sono scanalate per permettere poi alle stesse di poter entrare nei loro fori dedicati. Lo vedremo dopo. E andiamo finalmente anche a prendere anche il braccio, il destro dell'overpilder con la sua elica. Eccola qui. Il sinistro lo abbiamo ricevuto nelle uscite precedenti. Mi raccomando, controllate che non ci siano rotture qui, perché questo poi sarà basculante per consentire all'overpilder di poter entrare nella testa del Mazinga Z. Dovevo dirvi un'altra cosa... ho detto mi devo ricordare... Ah, eccola qui. Ma questo comunque penso che ci verrà sicuramente specificato. Ma non vi preoccupate qualora non ci venisse specificato, perché possono essere montate solo in un modo queste eliche. O meglio, in realtà si possono montare sia così che così. Ma ovviamente se guardate l'inclinazione delle pale, quando girano devono poter dare aria sotto, perché nella, diciamo, in una ipotetica realtà devono poter spingere il fluido, l'aria in fluido. Benissimo. Abbiamo poi una serie di viti, tre brugole, tre rondelle e due rondelle più grandi, perché in realtà qua ce ne vengono data, ce ne viene fornita una in più, sia come brugola che come rondella, queste invece sono due, perché ce ne servono due. Ecco qua. E non potremmo certo danneggiare queste. Sono anch'esse in metallo, come già vi avevo anticipato nel video unboxing. Una non la useremo. Ecco qui. Andiamo a prendere prima di tutto la mascherina. Ricordatevi, questo è importante, vi fa vedere le tre possibilità che potrete incontrare durante le varie fasi di montaggio di tutta la collezione. Quando troverete la linea continua, ti dice innesto incollato, quindi dovremo usare un collante. La parte invece gialla sarà quella evidenziata dove dovrà andarci il collante. Non vi preoccupate, qui non dovremo incollare nulla, come potete vedere è tutto tratteggiato. Andiamo quindi ad inserire la copertura degli occhi. infatti va benissimo così. vado soltanto a provarla per vedere se è il caso di allargarla così come ho fatto con questa oppure rimane in posizione da sola. Vediamo. vedete è troppo ballerina. Ecco diciamo così. Quindi cosa faccio? Guardate. Aspettate. La allargo appena appena. Adesso la rompo in diretta. no. Ecco guardate. Avete visto? È semplicissimo. Per inserirla basta con il dito pollice, il dito indice, pressare così come anche per toglierla. Ecco qui. Altrimenti non entra. Invece io, adesso che l'ho allargata, leggermente, vedete? Vedete che non entra? Faccio così e lei entra e non cade. Bene. Andiamo a rimettere la sua di prima. perfetto. Ok. E questo l'abbiamo fatto. Adesso prendiamo questo pezzo qui. ecco, vedete? I perni di cui vi parlavo prima, quelli scanalati, vanno semplicemente a inserirsi qui, nei loro spazi. ecco. Prepariamoci la vite e la rondella. e questa. e questa. Che struttura, ragazzi! Impressionante! qui nessuno, eh? Si può lamentare, il modello costa troppo, non vale, nessuno. ecco fatto. Accertatevi che si sia inserito perfettamente bene e poi stringete. però ricordatevi una cosa, eh? Che avete sempre un po' di gioco, ricordatevelo. Guardate, vi faccio vedere. Io allento un po'. E questa può andare. Guardate come si allarga di qua. Aspettate che ingrandisco. Ecco, vedete la parte nera. Se io spingo, non la vedete più. Ecco, questo è un gioco che vi potrà servire poi quando andrete a far combaciare perfettamente i pezzi per evitare che possiate avere delle parti che poi spuntano. Perché poi è inutile lamentarsi dicendo non mi chiude la parte anteriore, mi tocca. Eh, bisogna fare attenzione. Così, come vi avevo fatto anche vedere qui, questa staffa non deve uscire fuori dalla parte in alluminio. e dovete fare attenzione perché potrebbe anche uscire perché qui, vedete, avete la tolleranza. Ok? E questa parte deve essere completamente allineata con l'altra. Stessa cosa per quanto riguarda quest'altra parte qui. Vedete che è tutto a filo e anche con la parte sotto. Ecco, questo è importante quando montate i modellini, mi raccomando. Quindi adesso io lo vado a stringere. Ecco, è questo che devo stringere. Però sempre tenendo presente quello che vi ho detto prima. Facciamo la stessa cosa con l'altro pezzo e abbiamo finito il montaggio. Poi prima di salutarci vi farò vedere tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero che già in parte l'avete visto. E poi ci salutiamo. Grazie ragazzi delle visualizzazioni, grazie del vostro tempo davvero. Se avete piacere condividete nei gruppi dedicati i miei video. E mi raccomando, per quelli che mi guardano ma non si sono ancora iscritti, se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Bene, ecco qua, abbiamo finito. Questo poi andrà messo così. Eccolo qui. Stavo guardando una cosa. Scusatemi, sono in silenzio perché sto ragionando. Allora, sì, stavo pensando alla tolleranza di cui vi parlavo prima. in effetti poi, quando faremo questo, ma lo vedremo più avanti, quando ci arriveremo, andrò ad allentare queste viti qui, che ho appena adesso avvitato, dove c'è questa rondella nera, e poi farò muovere questo finché tutto sarà perfettamente a filo. Vedete perché questo lo devo tirare fortemente da questa parte per poterlo fare inserire bene. Però poi lo guarderemo. sicuramente combacerà tutto alla perfezione. Sicuramente. Ok. Bene. Direi che abbiamo finito. Questo è quello che abbiamo appena montato. La mascherina l'avete vista. Bellissima. Avete visto come ho fatto? Semplicemente posizionate i due pollici così e allargate senza avere fretta. Non allargate qui. Prendetelo così e così. Vedete? Mettete i pollici sul naso e allargate senza esagerare. Se esagerate vi basterà premerlo nuovamente. Però mi raccomando eh. Non fate danno. Ecco qui i due bracci dell'Overpilder. Questo è il sinistro. Lo so perché hanno contrassegnato solo il destro perché ovviamente per esclusione... eccolo qui. Questo è il sinistro. destro e sinistro. Le due eliche. Le due punte di metallo. La testa. Bellissima. Sarà veramente un modello spettacolare. Qui abbiamo il tappo che può entrare solo in una maniera. Vedete? Le righe qui devono essere perpendicolari rispetto a queste che sono orizzontali. all'interno. All'interno ricordatevi solo acqua demineralizzata o distillata. Non acqua del rubinetto perché il calcare una volta che smetterete di far funzionare dopo che vi sarete divertiti come anche noi tutti. la membrana all'interno. Poi se c'è del calcare e c'è sempre asciugandosi l'acqua poi vi blocca la membrana. acquistate più numeri. Come vi ho consigliato. Almeno i primi tre numeri. Prendeteli. Non dico doppi ma ad averne almeno uno in più. Il numero uno, il numero due e il numero tre. Dove potrete avere dei cambi dei led. Anche se non ci dobbiamo giocare si potrebbe fulminare. E poi per quelli più esperti i problemi non ce ne sono. Per quelli meno esperti se lo tengono poi che non funziona. Quindi mi raccomando ragazzi è un consiglio che vi do. Ecco qua. Kojikabuto. Bellissimo. Tutto dipinto a mano. Non è un pezzo unico perché sotto come potete vedere alle suole. Vediamo se ce la faccio. Devo spostare un po' di cose altrimenti mi mette a fuoco gli oggetti lontani e quelli vicini no. Ecco. Sotto le suole troviamo la R destra e la L sinistra. È stato proprio montato vedete. Braccia. Qui alle ginocchia. Il casco. Che bello. Che bello. Il suo sedile. Che poi sarà all'interno dell'overpilder. La spalla sinistra. Guardate che. Che roba. Andiamo a pesare tutto quello che abbiamo montato fino adesso. Che ne dite? Aspetta. Eccoci qua. La testa. Giriamola così che è più in sicurezza. Guardate la testa pesa oltre tre etti. 307 grammi. Che per i nostri amici non italiani il peso è questo. proseguiamo. 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 Va bene questa qui. Ho una all'altra quindi non la mettiamo. voglio mettere tutto quello che abbiamo montato fino adesso uso il abbiamo il plurale perché come ho detto più volte siete voi la vita del mio canale ed eccoci qua quanto abbiamo? 748 grammi 7 etti e mezzo rendiamoci conto abbiamo montato un po' di cose già ma vi rendete conto quanto abbiamo ancora da montare e questo è per i nostri amici non italiani bene adesso con questa bellissima foto tipo demolizione Michele vi saluta vi ringrazio del vostro tempo grazie ragazzi grazie con tutto il mio cuore un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari non mancate perché adesso vado a preparare il video del fascicolo numero 11 ciao